Buongiorno, maniù, mussarelle, salsicce e guagamore e si fanno lo spuntino da campione, buon appetito Madonna mia Spuntino delle undici, vedete, vedete come scola, guardate Si sentono tutti i sapori Qui la legge si ferma e comincio io Dai, spostati, devo fare un TikTok, dai Strasso Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari Secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Allora, cagher Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea Amore, se non la smetti, hai due opzioni Uno, torna a casa dai miei Uno Due Uno 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 Mi dai, dammi una mano, che devo andare da sola a fare la spesa No, Uccio, non è giornata, lascia stare Ma che è successo? Non ti ho mai visto così È successo di tutto oggi, di tutto Cioè? Ho messo la pizza nel forno, non l'ho tolta in tempo e si è bruciata E quella avevi uscita prima Grazie, perciò si è bruciata Ho messo le bottiglie di birra nel freezer, non le ho tolte in tempo e sono scoppiata No, adesso sei tu, sei tu E per finire, Alessia, la mia segretaria, sta incinta No! Ah Ti posso dare un consiglio? A me non ha cosa ogni tanto, tirala fuori prima Non dico la birra posta Non me la essia, non dico la birra